Buonasera a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta sul Bitcoin. Allora, cosa avevo segnalato nella scorsa analisi? Che mi aspettavo perlomeno una salita con aggiornamento dei massimi, cosa che quasi non c'è stata e che finalmente oggi vediamo. Ma perché sta succedendo questo? Molto semplicemente per un fatto, ovvero andiamo a partire dal controllo dell'indice, controllo su inverso, scusate. Da questo massimo, essendo partito un secondo t più 2 inverso, ovvero un secondo mensile inverso, che però è arrivato solo a 21 barre, abbiamo avuto un primo t, un secondo t, e poi il terzo t che potrebbe anche precludere a un nuovo t più 1, ovvero un movimento a 4 tempi, 1, 2, 3, 4, ok? Ha richiesto tempo per partire, effettivamente. Ha richiesto perlomeno un t-1, giustamente, per iniziare a esserci, ovvero da questo massimo abbiamo avuto 1, 2, 3, bastavano 4, abbiamo avuto 5 candele decrescenti, fino a poi andare ad aggiornare i massimi, come detto appunto nella precedente analisi. Erano i 9.596 dollari, oggi abbiamo fatto 9.631, finalmente, ok? Adesso possiamo andare ad ambire i livelli di prezzo che vi avevo dato la scorsa volta, ovvero i 9.800, e poi successivamente andare ancora oltre, e andare a testare i massimi assoluti a 10.429. Perché appunto è successo che non abbiamo fino ad oggi giornate massimi? Esattamente per quello che dicevo, perché l'inverso avrà bisogno per far partire eventualmente un secondo t più 1 inverso, un secondo bisettimanale inverso, perlomeno di 4 candele non sopra questo massimo, e ne ha fatte 5. E poi è andato subito sopra. Adesso, oltretutto, essendo sul terzo, questo terzo t-3, essendo già diventato ribassista di inverso, e quindi rialzista di bitcoin, chiamiamo l'indice, è arrivato soltanto a 6 giornate, potrebbe quindi essere in chiusura su questo massimo, ma in realtà potrebbe arrivare tranquillamente a 11, quindi potrebbe continuare a spingere verso l'alto, continuando a vincolare la struttura. L'altro indice invece, che cosa vediamo? Ovvero l'altro bitcoin. Da questo minimo, dopo un'altra fastidiosissima finta da tre giorni, che abbiamo già visto anche qua, e qua l'abbiamo vista da due giorni e mezzo, è partito un t-settimanale, che è arrivato a 8 barre, e che però, attenzione, non è ancora chiuso. Per chiudere dovrò fare perlomeno un giornaliero, un ciclo giornaliero ribassista, non una candela completa. Attenzione, potrebbero essere soltanto 6 ore complessivamente, da minimo a minimo a ribasso. Nel frattempo, essendo arrivato a 8, può spingere tranquillamente per arrivare oltre la durata media ciclica, ovvero a 10, a 11, a 9, a quanto desidera, e con questo favorire una chiusura oltre le 6 candele dell'inverso. Successivamente, dopo questa eventuale ancora spinta, ci saranno un paio di giorni in cui non verrà superato il massimo, minimo, un paio di giorni minimo in cui non verrà superato il top, il massimo. Successivamente, se lo si supererà, si vincolerà anche l'eventuale quarto t-inverso, ribasso, ovvero si spingerà ancora verso l'alto, come dicevo nella scorsa analisi. Faccio notare a tutti che oltretutto continuiamo a appoggiarci a livello superiore dell'accumo, della nostra nuvoletta, che abbiamo perso, ma poi ripreso per ora, la media mobile a 50 periodi, questa in rosso, che è in Golden Cross dal 19 di maggio, e che quindi dovrebbe provare ancora a continuare a dare spinta, a meno che non inizia ad uncinare verso il basso. Per cui, come al solito, punti di controllo. Se andremo sotto i 9138, avremo la nostra chiusura abbondante di T settimanale. Questo qua. Per cui, attenzione, se dovessimo già avere una debolezza e avvicinarci ai 9271, perché in realtà basterebbe anche soltanto quello per ritornare a chiudere e poi ripartire verso l'alto, eventualmente. Se invece continueremo ad avere spinta, come detto, appunto, prima raggiungeremo questo livello attorno ai 9800-804 dollari e successivamente, appunto, tenteremo di andare in superamento dei 9919-20. Questo è quanto. Se l'analisi vi è piaciuta, mettete like, sottoscrivete il canale, tra l'altro, mi sposterò soltanto più qui, su YouTube, perché TradingView sembra non tutelare, sembra, sottolineo, non tutelare l'originalità delle mie analisi e permettere a chi copia e a chi mi denigra, anche pubblicamente, ma poi mi copia e poi utilizza la citica per la prima volta dall'inizio dell'anno, dopo avermi denigrato costantemente nelle chat pubbliche, e chi dimostrano i fatti di fare dei trade costantemente validi, non soltanto qui, ma anche sugli indici, viene purtroppo non tutelato. Mentre invece, chi non ha mai dimostrato nulla e sbaglia ancora l'analisi, rimane su TradingView, per cui, ciao ciao TradingView, ci vediamo, boh, chi lo sa, rimaniamo qua su YouTube. Questo è quanto, vi ringrazio per il vostro tempo e attenzione, perché qui comunque abbiamo creato una divergenza ribassista sui top. Buona serata a tutti!